Ciao amici, oggi condivido con voi una buona notizia che farà piacere a chi ha problemi di diabete, glicemia alta e anche colesterolo. Ah, sono curiosa! E poi la fonte è tutta italiana, è uno studio sugli effetti benefici del colesterolo buono HDL nel controllo della glicemia, in particolare del glucagone. Gluca che? Non è una parolaccia, il glucagone è l'ormone che regola la quantità di zuccheri nel sangue. Se la notizia vi intriga, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, la scoperta è stata fatta dal team di ricerca dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, dove il prof Giorgio Sesti ha coordinato un team di ricercatori. Lo studio è stato presentato dalla Società Italiana di Diabetologia al congresso dell'European Association for the Study of Diabetes a Berlino. Viva l'Italia! E viva la ricerca! Finora erano stati rilevati gli effetti del colesterolo HDL, quello chiamato buono, sul metabolismo degli zuccheri, perché stimola la secrezione di insulina da parte del pancreas. Grazie a questo studio è stato possibile definire chiaramente l'azione del colesterolo HDL sulla produzione del glucagone, che come dicevo è l'ormone che ha il potere di innalzare la glicemia. Bene, grazie al colesterolo buono questo ormone viene prodotto in minor quantità e come conseguenza stimola l'abbassamento della glicemia. Lo studio apre nuove porte a favore di diabete, prediabete e glicemia anche per chi vuole fare prevenzione. Se volete saperne di più sul colesterolo buono e quello cattivo potete guardare questo mio video. Per seguire gli altri miei consigli iscrivetevi al canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Comunque se youtube non vi avvisa andate a vedere sulla home del mio canale perché ogni giorno pubblico video che potrebbero esservi utili. Vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!